L'anticiclone è presente sul Mediterraneo ma nella giornata di domenica passerà un moderato fronte atlantico anche sulla nostra regione. Pertanto avremo una giornata di sabato con cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, maggiore variabilità in montagna, soprattutto al pomeriggio con la possibilità di qualche locale rovescio, qualche locale temporale, specie sulle zone occidentali verso il cadore. Le temperature massime in lieve rialzo intorno ai 31-32 gradi in pianura e intorno ai 29-30 gradi sulla costa dove sarà presente un po' di borino al mattino, poi 20 a regime di brezza. Nella notte fra sabato e domenica e domenica mattina il passaggio di questo moderato fronte porterà probabilmente un aumento della nuvolosità, qualche possibile locale rovescio temporale a carattere sparso un po' su tutta la regione, condizioni però in miglioramento già nella tarda mattinata di domenica. Rimarrà ancora qualche possibile locale rovescio sulla zona montana anche nel pomeriggio di domenica. Temperature più o meno sui valori di questi giorni. Il tempo poi migliora decisamente all'inizio della prossima settimana, per il tempo lunedì con cielo sereno poco nuvoloso, temperature che cominciano a crescere, cielo sereno martedì e più caldo, temperature massime che cominceranno a avvicinarsi in pianura intorno ai 35 gradi. Farà molto caldo nel cuore della prossima settimana. Buon weekend a tutti!